Instagram sta nuovamente pensando di farti scorrere fra le storie in verticale e non più in orizzontale. Vediamo 7 novità che potrebbero arrivare a breve su Instagram. Prima novità, in occasione di San Valentino, Instagram sta pensando di mostrarti una nuova animazione quando condividi una nota. Seconda novità che riguarda le note, in futuro avremo la possibilità di crearle e visualizzarle a fianco all'immagine profilo. Proprio per quanto riguarda le immagini di profilo, la terza novità in arrivo ci permetterà di zoomarla ulteriormente. E poi ancora si tratta di una funzionalità già vista in passato, ma Instagram sta nuovamente testando la possibilità di farci visualizzare le note in verticale, scorrendo in verticale e non più in orizzontale. In arrivo anche un nuovo adesivo chiamato Fitness. L'ultima novità riguarda le storie, Instagram sta lavorando la possibilità di farti convertire una storia pensata per amici più stretti ad una storia normale. Sempre per quanto riguarda le storie, Instagram ti permetterà di creare una storia soltanto per un amico. Infine, Instagram sta anche lavorando la possibilità di farci inviare reazioni con Avatar. Fammi sapere cosa ne pensi di queste novità e condividi il video.